Carissimo Redronni, mi chiamo Rachel Cheyenne Tonelli, sono molto emozionata, ti scrivo questa mail sotto caloroso invito di alcune anime straordinarie, persone che seguono i miei video, le mie dirette e soprattutto trovano in me grande sostegno nell'evoluzione della loro coscienza e nel risveglio della loro anima. Nel corpo fisico ho 24 anni e nel corso di questa intensissima vita sono stata chiamata sin da subito a risvegliare la mia carne alla consapevolezza dell'immensità custodita in ogni atomo di questo universo. Sono nata con uno stato di coscienza che mi faceva vivere in assenza di spazi, di tempo, eccetera, eccetera, ma è inutile continuare questa mail perché me lo faccio raccontare da lei. Ciao Rachel, Rachel. Buonasera a tutti. O sei Rachele, sei Rachele, giusto? Rachele Cheyenne. Rachele Cheyenne. Rachele Cheyenne. Allora, tu hai 24 anni. Allora, cosa ti è successo nella vita? Perché poi la lettera continua che a un certo punto tu hai dovuto, le cose che sentivi le hai dovute, diciamo, tarpare e affogare praticamente. Sì, è così. Che cosa mi è successo nella vita? Beh, penso un po' quello che è successo a tantissimi di noi, cioè essere nata con una naturale predisposizione a vedere la bellezza, a vedere l'anima delle cose, ad entrare a contatto con il cuore degli altri e di tutti gli esseri, come solo i bambini sanno fare. Naturalmente ci possono essere delle predisposizioni naturali per cui ogni bambino ha le sue caratteristiche, però in generale tutti i bambini, se osservate un bambino specialmente molto piccolo in culla, lui è nella gioia, è nella percezione della bellezza di tutto ciò che lo circonda e non è consapevole, cioè nonostante quello è lo stato in cui vive. Però poi cosa succede? Che crescendo ci confrontiamo con i dolori, ci confrontiamo con le sofferenze e tutta questa apertura di cuore che avevamo di solito tende a ridursi e pian piano progressivamente il cuore si chiude. E io ho sofferto molto la chiusura del mio cuore perché quelle percezioni che avevo da bambina ad un certo punto sono letteralmente scomparse. Per farla molto breve, io ero una bambina che viveva in un mondo che potrebbe somigliare il Cantico delle Creature di San Francesco, quindi percepivo in ogni oggetto della realtà, materiale o immateriale, la vita. Percepivo la vita nelle piante, percepivo la vita negli animali, dialogavo naturalmente con il sole perché per me non era semplicemente una palla che sta in alto nel cielo, ma aveva un'anima. E tutto questo per me era assolutamente naturale, la telepatia era una cosa assolutamente naturale. E mi rendo conto che oggi possono essere considerate delle percezioni extrasensoriali, qualcosa di straordinario, ma per me lo erano. Poi però scontrandomi con una realtà per la quale io ero quella strana, soprattutto con l'ingresso alla scuola materna, è accaduto che io per essere accettata per le mie ferite insomma mi sono chiusa e ho smesso di percepire questo mondo. E ho iniziato a condividere la visione del mondo che oggi forse è la più diffusa, cioè un mondo cattivo, ostile, dove ti devi guardare le spalle, dove il pericolo è sempre in agguato e soprattutto dove non esiste l'anima. Questa è stata la sofferenza più grande per me, perché ogni volta che io mi confrontavo con qualcuno non riuscivo a vedere una persona, ma vedevo la luce negli occhi di quella persona, vedevo l'immensità, vedevo letteralmente l'intero universo. E ripeto, non voglio far sembrare che sia una cosa straordinaria, perché è lo sguardo dei poeti, è lo sguardo dei grandi artisti, è lo sguardo di chi osserva un fiore e nella sua geometria riesce a cogliere la perfezione dell'esistenza. Però appunto poi ho iniziato a soffrire molto perché avendo chiuso questi canali ho iniziato a vivere, dico io, da morta. Ed è naturale iniziare a provare dolore e sofferenza quando rinneghi così tanto te stesso ed è molto probabile che ognuno di noi nella sua vita ad un certo punto abbia rinnegato la sua verità. Leggevo prima tra i commenti la verità ci libera, però ci fa anche tanta paura. Ci fa tanta paura perché non viviamo in un ambiente che ricerca la verità, ma viviamo in un ambiente che condivide opinioni e quindi dobbiamo in qualche modo conformarci alla narrazione sociale, a costo di soffrire. Però a un certo punto la sofferenza è diventata talmente tanta che non ho più potuto accettare i compromessi che accettavo prima e io dico spesso che la mia grande maestra è stata la morte. Tu quando vuoi Red interrompimi pure, ma se no io vado a ruota. No, 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 ma io ti interrompo subito. In che senso la tua grande maestra è stata la morte? Perché tu hai toccato con mano la morte? No, non l'ho fatto direttamente, ma ad un certo punto della mia vita, precisamente ai miei 18 anni, le circostanze hanno voluto che io vivessi la morte di tre familiari per me molto importanti, uno dopo l'altro. Quindi a distanza di tre anni ho perso una dopo l'altra le tre figure maschili più importanti della mia vita, che erano il primo mio nonno, che è colui che mi ha cresciuto e che mi ha fatta da padre, perché mio papà biologico andò via quando ero piccola, e dopo la morte più difficile, ma anche quella più importante fu proprio quella di mio papà, che ai miei 18 anni, insomma, lasciò il corpo. E quando questo successe io non avevo la consapevolezza che ho ora, quindi ero d'accordo con la società per cui la morte era la fine dell'esistenza, cioè non c'era più niente. E poiché noi non avevamo una bella relazione come padre e figlia, mi sono ritrovata addosso tutto quel dolore, quell'odio che rivolgevo verso di lui. Non potevo più rivolgerlo verso nessuno perché lui non c'era più. E c'è un bellissimo detto che dice quando puntiamo il dito verso qualcuno, abbiamo un dito puntato verso di lui, ma gli altri tre sono puntati verso di noi. E quindi questo è quello che mi è successo. Tutto quell'odio che io provavo per mio papà ad un certo punto si è riversato su di me. E io con questa carica di dolore letteralmente dovevo farci qualcosa. È nata l'esigenza di intraprendere un percorso per perdonarlo, per lasciare andare la sofferenza e quindi per riavvicinarmi agli insegnamenti della spiritualità. Quella spiritualità naturale che io avevo da bambina ma che poi avevo rinnegato. Tu hai detto una cosa, dunque chiaramente tuo padre ti ha abbandonato, però con la tua consapevolezza. Nella materia sì. Eh, nella materia sì. Però con la tua consapevolezza non sei a conoscenza del fatto che tu prima di nascere sapevi che quello era tuo padre, quello che ti avrebbe fatto? La cosa straordinaria era che io con la mia consapevolezza in quel momento non lo sapevo, perché io avevo rinnegato la mia consapevolezza. Quindi ero la classica diciottenne che vive secondo i canoni della società. La cosa meravigliosa è a che a ricordarmelo questo fatto, cioè che tutto era stato deciso e che in fondo non c'era nulla da perdonare, me l'ha ricordato proprio mio padre. Perché in alcune esperienze che da quel momento in poi ho avuto l'esigenza di fare, mi è stata donata la grande possibilità di incontrare l'anima di mio papà. E' stato un incontro chiaramente fuori dal corpo. Ed è stato quello il mio grande risveglio, è per questo che dico che la mia iniziatrice è stata la morte, perché grazie alla morte io ho superato nel mio piccolo i limiti che credevo avesse la vita. E quando ho avuto la possibilità di incontrare mio padre, appunto incontri dalle altre dimensioni, è stato lui a dirmi, lo avevamo scelto. Ed è in quel momento, dopo aver udito quelle parole, ma non solo quelle parole, dopo aver vissuto quell'esperienza, che io non ho potuto avere dei dubbi mentali. Sai Red, noi mettiamo tanto in dubbio queste cose che sentiamo dire, soprattutto se non sono nostre esperienze. Ma nel momento in cui ti trovi lì e vivi sulla tua pelle quell'esperienza, senza tra l'altro averla cercata, perché io non è che sono andata da un medium per incontrare mio padre, a un certo punto è accaduto, è stata una grazia, dico io. Quando tu vivi quell'esperienza e senti dire da quella bocca, di quell'anima queste parole, tu non puoi avere dubbi che sia diversamente. E altro fatto meraviglioso che mi piace condividere con tutti voi, come ho fatto a comprendere che qualcosa di vero era successo? Perché in quel periodo io avevo un malessere fisico, una problematica. E dopo questo incontro con mio padre, fuori dal corpo, quando lui mi ha detto queste parole e io le ho accolte dentro di me, l'indomani mattina mi sono svegliata e quel malessere fisico, che era una piccola formazione, per la quale io mi dovevo operare, probabilmente, era completamente sparita. Quel cumulo di dolore che io mi portavo dietro e che non sapevo assolutamente come elaborare, è stato letteralmente sciolto dalla comprensione. Certo, anche perché le malattie sono soprattutto e quasi esclusivamente psicologiche, a meno che proprio uno non mangi continuamente schifezze, allora deriva anche l'alimentazione, ma alla base c'è una psicologia. La domanda, ce ne sono tantissime delle domande, aspetta, ecco Lorenza chiede, com'è successo l'incontro? Che bella Lorenza! Com'è successo l'incontro? È successo perché io appunto ero alla ricerca di risposte, quindi le stavo letteralmente provando tutte. E uno dei percorsi molto importanti in quel periodo fu proprio un percorso di perdono. Feci delle pratiche per iniziare a immedesimarmi nell'altra persona, quindi nella persona di mio padre, provare a vedere quello che noi avevamo vissuto con i suoi occhi, con i suoi traumi, con le sue ferite. E tutto questo mi ha aiutata molto. Ma era come se di tutto quel dolore che io mi portassi dietro si scremasse una parte, ma rimanesse sempre un pezzettino di fondo. Quindi il perdono non era mai completamente avvenuto. E questo mi ha fatto rimanere per quattro anni alla ricerca di una soluzione. finché ad un certo punto io credo che più mi sono liberata e alleggerita da questo odio e da questo dolore che la mia personalità, non la mia anima, provava, più è come se il mio cuore riprendesse forza. Finché ad un certo punto era abbastanza nutrito da permettermi un giorno di avere questa intuizione. Io era un giorno particolare, ebbi l'intuizione di mettermi in meditazione come facevo sempre. Chiusi gli occhi, mi misi in meditazione e ad un certo punto io sentii letteralmente che la densità intorno a me nella stanza stava cambiando. E c'era come un richiamo, qualcosa che è un po' difficile da spiegare, ma lo potete immaginare. È come se si aprisse un varco spazio-temporale, una cosa un po' da fantascienza che in realtà è molto concreta per chi ha vissuto queste cose. E ad un certo punto semplicemente quest'immagine luminosissima che non aveva le fattezze di mio padre mi è venuta davanti. E io letteralmente mi sono chiesta, uno che caspita sta succedendo? E due chi è questo? Un angelo? Chi è? Mai avrei pensato che fosse mio padre, perché io non lo vedevo assolutamente così. Ma poi ad un certo punto c'è una scelta. Puoi rimanere nella mente oppure ti puoi aprire alla grazia che ti sta accadendo. Io mi sono aperta alla grazia, ho aperto il cuore, sono uscita anche io dal corpo, ma tutto in modo molto naturale, senza questo, senza che questo intervenisse. E lì semplicemente ho riconosciuto che mi trovavo davanti all'anima di mio papà. Nessuno me l'ha detto, non è che lui mi ha detto io sono tuo padre dall'altro mondo, sto venendo da te. Non è stato così. È stato un riconoscimento come quelli che vivevo da bambina in modo telepatico, un qualcosa che tu sai e non puoi mettere in dubbio. Quindi è avvenuto così. Ok, allora tra le tanti commenti scelgo questo. Che bella testimonianza vorrei tanto succedesse a mia figlia. Emanuela, è semplice, fai vedere questa registrazione a tua figlia e poi l'aiuti, cerchi di spiegarle che è lei che ha scelto quel papà. Noi prima di nascere facciamo un contratto. Guarda, io vengo da un'intervista da Angie Vodan che mi ha confermato anche lei queste cose. Cioè, prima lei nel contatto che ha avuto con gli extraterrestri, che poi è diventata come una giornalista degli altri mondi, delle altre dimensioni, le hanno detto, loro l'hanno incontrata e le hanno detto, allora prima di nascere hai fatto un contratto, che avresti fatto questo. Ti va ancora di farlo? Perché esiste quello che è il libero arbitro, ma in realtà il libero arbitro serve solo a sbagliare. Il libero arbitro non è, cioè tu hai un libero arbitro, ma ti serve solo se vuoi sbagliare. Hai la libertà di poter sbagliare. E gli hanno chiesto, tu vuoi fare questo? Vuoi rispettare il contratto? Bene. Allora a tua figlia, Emanuela, gli fai capire che lei prima di nascere ha scelto il suo papà e ha scelto le difficoltà che il suo papà le ha creato. Quindi l'odio nei confronti di un qualcosa che lei ha scelto è totalmente sbagliato, anche perché sarà costretto a ripeterlo, si troverà in un'altra incarnazione con il problema più grave. Quindi magari spieghi a tua figlia che nella vita precedente è stata lei ad abbandonare il suo padre, che magari era sua figlia, magari era sua moglie, non si sa, però è un karma, è un qualcosa. O magari avevi bisogno, avevi abbandonato qualcos'altro, qualcun altro, è anche solo un cagnolino e hai bisogno di provare quello che, di provare sulla tua pelle quello che hai creato agli altri. Si chiama karma. Dico bene Sheyenne Rachele? Sì, dici molto bene, condivido tutto quello che hai detto, apporto anche la mia testimonianza, perché dopo che io ho vissuto questo contatto con mio padre, mio padre mi ha letteralmente incaricata della missione che io a mio modo, nei miei limiti, sto cercando di portare avanti, che è diffondere questo messaggio nel mondo. Successivamente a questo incontro, questa prima esperienza che io ho fatto dei piani dell'anima, ci tengo a dire che io non ho fatto esperienze di viaggi astrali, non ho incontrato alieni, non sono esperienze che io ho fatto, ma mi sono successe altre esperienze con i defunti e mi succede tuttora di entrare telepaticamente a contatto con l'anima delle persone. Quindi questo è un po' quello che io cerco di trasmettere e che aiuto gli altri a risvegliare. E nelle esperienze successive che io ho fatto, al di là di questa, io mi sono ricordata perfettamente tutti i passaggi che noi compiamo come anime prima di venire sulla Terra. E non solo noi siamo qui per riparare delle azioni che a nostra volta abbiamo fatto ad altri, quindi un fenomeno karmico. Ho fatto questo, adesso lo devo provare, che è un po' un fenomeno anche un meccanismo tipo, devo rimediare a quello che ho fatto, quindi un meccanismo di riparazione, non è solo questo. Ma soprattutto mi sono accorta che ognuno di noi viene qui sì per riparare, ma anche per sviluppare dei talenti. E qual è il modo attraverso il quale noi possiamo sviluppare questi talenti? Sentendo delle mancanze. Quando sentiamo che nella vita ci manca qualcosa, per esempio faccio il mio esempio, mi manca la presenza di un padre, quindi mi manca la stabilità, mi manca la direzione nel mondo, mi manca tutto quello che l'archetipo del papà e del maschile rappresenta, cosa succede? Che fuori non posso trovarlo, non posso colmare questa mancanza basandomi sull'esterno perché non ce l'ho quel papà. Allora che cosa sarò spinta a fare? Sarò spinta a tirare fuori queste qualità dall'interno e a diventare io stessa, ad incarnare io stessa quel paterno che mi manca. E quindi ognuna delle nostre grandi ferite, la ferita d'abbandono, la violenza subita, piuttosto che il tradimento, sono tutte ferite, quindi pensate ad una ferita, è un'apertura, è una spaccatura, è una mancanza, è un vuoto che ci porta poi nella vita ad intraprendere un percorso per colmare quel vuoto e sviluppare una qualità. Ma non svilupparla così, incarnarla in ogni cellula ed è solo quando ti manca e non sai letteralmente da dove prenderla che nasce l'esigenza di svilupparla da dentro. Quindi il viaggio sulla terra è un viaggio perfetto per avere tante mancanze e per sviluppare però tante qualità che ci porteremo indietro per sempre. Questo mio padre me l'ha detto. Mi ha detto c'era un progetto e io sono al tuo servizio. Bello. Poi guarda le coincidenze perché noi dobbiamo anche seguire le coincidenze. Guarda Ivana, Ivana Dolce dice grazie Red sto risolvendo con mio padre questa ferita di abbandono proprio in questi giorni. Ora mi è sceso il telefono e si è aperta la live. Grazie ti stimo e lei è un'anima stupenda. Sì, di fatti c'è una domanda che ti potrà sembrare banale. Ma che lifting hai fatto per essere così bella da settantenne? Settanta secondo me sono pochi sai. Sono stato basso perché bisogna sempre togliere gli anni a una ragazza. Le donne bisogna sempre togliere un po' di età. Avrei detto qualche, diciamo che sei un'anima millenaria, ok? Però, però, allora tu incontri tuo padre, ti dà questo. Da quel momento tu hai riacquisito tutti i poteri che avevi da bambina? No, direi di no. Direi di no perché se quando qualcuno mi chiede, ma Rachele chi è il tuo più grande maestro? Ecco, una persona che io nomino spesso è mio padre, perché io mi rendo conto che mio padre è stato il mio sacerdote. Cioè è stato colui che attraverso tutta questa esperienza di vita, in qualche modo è morto anche per me. Lui è morto giovane, non aveva molti anni di vita e secondo me è dovuto morire in quel momento perché io a quell'età dovevo vivere queste esperienze per fare quello che oggi sto facendo e che sempre di più, se l'universo vorrà farò. E quindi mio padre, ma fondamentalmente la mia grande maestra è Rachele Chayenne bambina, perché io in lei vedo e invito ognuno di voi a pensare a quando era bambino. Io in lei vedo l'ideale più alto di illuminazione, di bellezza, di gioia, di amore incondizionato che io vorrei incarnare oggi. E quando penso veramente a quegli occhi di quando ero piccola, a quella bellezza che vedevo nel mondo, a quella gioia che provavo, ecco io non ho un ideale più bello di quello. Quindi no, non le ho riacquistate tutte quelle qualità, secondo me ho ancora tanto mentale da smaltire, perché io sono una che poi ha studiato anche tanto, ha messo tanto in dubbio, si è fatta tanto contagiare, quindi sono in cammino come tutti. Ok, allora dunque Barbara dice ora lo farò vedere a mia figlia, credo che mi aiuterai moltissimo. Grazie Barbara. Secondo Rachele le vibrazioni attuali permettono di innalzare la consapevolezza di molte più persone rispetto al passato? Bellissima domanda. Sì, io credo che a tutti gli effetti stiamo vivendo un periodo molto particolare e qui ne parlo tanto sui miei canali Facebook, YouTube, dove teniamo spesso dirette e trattiamo questi argomenti. E quello che dico spesso, mi ripeterò in questo momento, è che quando c'è tanta luce succede un fenomeno strano. Vi siete mai chiesti perché? La fase prima del risveglio, diciamo così, il risveglio spirituale, quando ti rendi conto che l'essere umano non è fatto solo di corpo, emotività e mente, ma c'è qualcos'altro. Ecco, in quella fase lì tu di solito vivi il momento di dolore più grande della tua vita e dici ma come mi sto svegliando, dovrebbe essere una cosa meravigliosa, riapro la mia coscienza alla bellezza dell'universo e soffro. E allora faccio questo esempio che a me ha aiutato molto. Immaginate di vivere per vent'anni o per tanto tempo in una stanza con la luce spenta. Allora cosa succede? Che muovendovi in questa stanza e non essendoci luce fate un po' di disastri. Passate di là, non vedete il mobile, sbattete, fate cadere il vaso, il vaso si rompe, non vedete la polvere sotto il tappeto, quindi non la potete pulire e questa stanza diventa sempre più disordinata e sempre più caotica. Questa è la vita dell'essere umano inconsapevole addormentato. Quando inizia ad aprirsi uno spiraglio e da quello spiraglio inizia ad entrare un po' di luce, poca, che cosa succede? Che iniziate a rendervi conto del caos che avete creato nella vostra stanza, che simbolicamente è la vostra vita. E quindi mettete luce su tutto il disastro, il disordine, lo sporco che avete creato vivendo inconsapevolmente. Quindi la fase del risveglio non è mai una dolce carezza al mattino, ma è sempre in qualche modo traumatica. Quindi in questo periodo storico io penso che abbiamo vissuto molte difficoltà, molte incoerenze, molte dissonanze sono emerse, sono venute a galla, ma se le possiamo vedere così chiaramente è perché si sta accendendo una luce. Quindi io penso, per rispondere alla domanda, che questo non è un periodo facile, perché ci stiamo rendendo conto di tutto quello che non va. Però abbiamo due possibilità. La prima possibilità è disperarci e quindi creare un atteggiamento di panico e di disperazione perché tutto sta andando male. Invece la seconda possibilità è dire, ok, se la mia vita finora non è proprio il massimo, questa è la buona occasione per iniziare a far andare meglio le cose, dato che ora ci vedo, e per rimettere un po' in ordine. Hai fatto un esempio bellissimo. Io poi amo gli esempi, amo le parabole del Vangelo, quindi per me gli esempi sono la cosa più bella. E questo conferma quello che sta scrivendo, quello che ha scritto Rosario Locofano che dice, ma questa da dove è uscita? Dall'ovetto Kinder? Questa non ancora me l'aveva detto nessuno, Rosario. Sì, perché sei una tale sorpresa, sei incredibile perché, ma oggi, oggi, che cosa fai tu? Tu hai detto che oggi io faccio canale, eccetera, cosa fai tu? Questa è la domanda terribile perché dici, ma che cosa faccio io? Allora, io me lo sono chiesta tanto, però in realtà quello che io sento di fare è aiutare a risvegliare la consapevolezza dell'anima e quindi aiutare le persone ad uscire da questo caos, a rimettere i tasselli in ordine e a vedere in questo apparente caos il disegno perfetto che è adesso atteso. E quindi, sì, attraverso tanti contenuti gratuiti sui miei canali Facebook, YouTube, un po' anche su Instagram mi sto attivando, ma soprattutto attraverso delle conferenze che sto tenendo in giro per l'Italia e dei seminari che ho creato con delle pratiche dedicate, anche per scendere un po' più sul campo, fare veramente esperienza di che cos'è quest'anima, iniziare a ricordare chi siamo, da dove veniamo e soprattutto dove stiamo andando. Qual è il senso di questo grande gioco che si chiama vita? E poi approfitto anche per dire, dato che mi avete fatto la domanda, Red mi ha fatto questa bella domanda, che da settembre una delle grandi novità sarà l'apertura in Italia della prima scuola di autoguarigione nativa. Perché nel mio riunire i puntini ad un certo punto ho dovuto Red fare i conti con questo nome, Cheyenne, che i miei genitori mi hanno dato proprio come nome all'anagrafe, quindi io sulla carta d'identità sono Rachele Cheyenne. Ed è molto singolare perché unisce Rachele, che è una figura che ci riporta alla tradizione ebraica, con i Cheyenne, che sono un popolo straordinario dei nativi americani. E io non ho mai voluto approfondire, non ho mai letto libri sui nativi, non ho mai visto video, non sono ancora andata in America, quindi non so letteralmente nulla, ma semplicemente sento che dentro di me porto le loro frequenze. e tutto questo è stato confermato da un incontro fortuito, che invece era programmato naturalmente quest'estate, con un mio carissimo amico che saluto ci sta ascoltando, Alessandro Tenaglia, ed è un master coach della scuola di pratiche di autoguarigione native, che è una scuola che esiste in Germania e che a settembre arriverà in Italia. Pratiche che vengono dai popoli nativi sull'autoguarigione. Allora, prima di andare sull'autoguarigione, volevo far vedere che su YouTube la trovate come Rachele Cheyenne Tonelli 9914, giusto? Sì, questo è proprio, in teoria basta scrivere Rachele Cheyenne Tonelli. Ecco, Rachele Cheyenne Tonelli, esatto. Poi dopo non so se ha altre cose eccetera. Comunque, mamma mia, quante domande. Anche nel viso porti tratti dei nativi e guarda, anche qui non ci sono le coincidenze, io stasera ho scelto di tenere dietro di me, vedi, Atitom, che questa nativa americana che ha disegnato Paola Rava e la trovo bellissima. Perché hai chiuso gli occhi? Perché mi commuove. È come guarda, io amo avere persone, guardiani che controllano come io mi sto comportando, come sto facendo, eccetera. Possono essere dei quadri, possono essere foto, ad esempio ho la foto di Fausto Besorella, sia il premiato circolante Barosso che è We Have a Dream, che mi sta dietro, che mi guarda. In questo caso da un lato ho lei e dall'altro lato, eccola qui, ho gli occhi di questa lince che guardano e controllano tutto. Praticamente è come avere una protezione, Rachele. È letteralmente così. Io anche ho sempre avuto i miei animali totem, anche qui senza saperlo, cioè io non sapevo da piccola che cosa fosse un totem, però fatto sta che da piccola ritrovavo ovunque nel mio quotidiano il simbolo del lupo. Era proprio un'immagine che mi seguiva ovunque. Ed era in quel momento il mio spirito guida, il mio animale protettore, che poi dire animale per l'idea che noi oggi abbiamo dell'animale è molto riduttivo, perché pensiamo all'animale e pensiamo ad un essere inferiore rispetto all'uomo. Vabbè che qui siamo su un canale speciale, quindi non è vero che c'è questa idea, però comunemente trattiamo gli animali come degli esseri inferiori. Invece l'animale è un'anima, ed è un'anima che è connessa a livello di campo a tutti gli animali della sua specie. Quindi, mentre noi abbiamo uno stato di coscienza individuale come esseri umani, gli animali hanno uno stato di coscienza collettivo, per cui non esiste l'orso, ma esistono tutti gli orsi del pianeta. E vi rendete conto che un'anima composta da tutte le anime di tutti gli orsi del pianeta è qualcosa di potentissimo. Quindi quando ci connettiamo al lupo, alla lince, o come è stato per me poi attraverso mio padre con l'aquila, noi non ci stiamo connettendo ad un animale nello specifico, ma stiamo attingendo dalla grande coscienza dell'aquila sulla terra. È una potenza veramente elevata. Allora, una domanda che stanno facendo, tu mangi carne? Allora, io ho scelto di mangiare carne, ma la mangio in un modo che per me è sacro. Mi piace fare l'esempio di quando attraverso l'ostia noi mangiamo il corpo di Cristo. Questo è a tutti gli effetti, a livello rituale, un atto di cannibalismo. Ma perché noi mangiamo il corpo di Cristo? Perché in quel momento noi stiamo mettendo nella nostra materia delle frequenze. E lo stiamo facendo non attraverso lo spirito di Cristo, ma attraverso il corpo di Cristo. E quindi nel nostro essere sulla terra noi abbiamo anche bisogno di materia. E personalmente il mio corpo, questo non è una regola, ma il mio corpo fisico ha bisogno in alcuni momenti di carne. Questo l'ho sperimentato perché ho fatto dei periodi di vegetarianesimo, ma poi ho avuto anche degli episodi in cui l'animale mi ha parlato e mi ha detto prendi dentro di te il mio corpo. Esattamente queste parole. E lì ho compreso che quello che mentalmente mi sembrava appunto un atto spregevole mangiare della carne, sembrava una cosa orribile, in realtà poteva diventare un atto sacro se fatto con il giusto stato di consapevolezza. Io non invito a mangiare carne, non invito a seguire nessuno stile alimentare. Io dico di ascoltarci e di ricordarci che anche in un vegetale c'è un'anima. E quindi nel momento in cui mangiamo, o in un cereale, quindi nel momento in cui mangiamo qualsiasi cosa, essere consapevoli che quella materia sta entrando a far parte della nostra materia. Quindi avere un profondissimo rispetto per tutto quello che ingeriamo e che beviamo. Sì, su questa è l'unica cosa dove non sono molto d'accordo con te perché... No, sai perché? Perché mangi la sofferenza degli animali, nel senso che gli animali, cioè anche perché, visto che tu hai nominato Cristo, il Vangelo, eccetera, la Bibbia dice proprio, l'ho detto varie volte, vedi, c'è, dice, vi do tutti i frutti della terra, la Genesi 1,29, è andata a vedere, Marina Madapela dice, non è un giudizio, però mangiando carne si introduce anche il suo karma e il suo terrore, comporta comunque l'uccisione dell'animale. È sicuramente vero. Io penso... Però, 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 hai 24 anni, c'è tempo, c'è tempo per capire, anche per capire, anche per capire questo. Quindi, ecco, vedi, cominciano subito, quindi sarebbe anche capace di uccidere l'animale, vedi, perché poi alla fine, alla fine, se tu mangi, hai lasciato lo sporco lavoro di togliere la vita a un animale, l'hai lasciato a qualcun altro, tu prendi soltanto il risultato. Quindi, però, al di là di questo, ma tu, scusa, ma di che cosa, cioè, di che cosa vivi? Cioè, come vivi? Hai studiato? Cioè, hai 24 anni, una decide di fare un lavoro. Che lavoro fai? Io faccio la relatrice, quindi tengo conferenze, seminari e anche incontri individuali. Oggi si chiamo a coach quello che faccio io, quindi faccio delle consulenze individuali su questi temi e aiuto le persone a riconnettersi alla loro anima. La mia fonte di sostentamento economico sono i seminari, sono le conferenze. Adesso sarà anche l'apertura di questa accademia che però, vedete, io non posso considerare questo come un lavoro. Mi sento letteralmente graziata a poter fare nella vita quello che fondamentalmente amo di più e quindi occuparmi della vita in tutte le sue sfaccettature, in tutta la sua bellezza, la sua profondità e aiutare altri ad entrare ancora più in profondità nell'esperienza della vita. Quindi non è un lavoro, è una missione, è qualcosa di meraviglioso e siccome dobbiamo appunto pagare le bollette e andare a fare la spesa attualmente, sì, serve anche il denaro, ma non è un lavoro. Senti, ma tu dove abiti? Attualmente a Milano. Ah, perché attualmente? Perché prima? Io sono abruzzese, nata a Pescara. Allora, io sono nata a Pollutri, che è un piccolo paesino in provincia di Chieti, vicino Casalbordino e Vasto, in Abruzzo e saluto tutti i pollutresi, so che siete tanti che ci stanno seguendo in questo momento. Sono nata come Heidi in mezzo alle campagne. Allora, allora, guarda, ne approfitto di un commento per dare una lezione che ogni tanto purtroppo devo dare. Marco Fadda scrive, a pagamento, capito? Allora Marco, io credo che tu lavori, ok? Lavori e hai delle spese, l'affitto della casa, i vestiti, il mangiare, le tasse, eccetera, no? Tu avrai una dote, magari sei un bravissimo idraulico. Visto che hai questa dote, tu ti fai pagare per questa dote, dovrai campare, no? Allora, la gente non può farsi pagare se dà una funzione. Aggiustare una tubatura in casa o un impianto elettrico è come aggiustare il cuore di una persona, anzi, forse è più importante aggiustare il cuore della persona, ok? Quindi, cioè, perché, vedi, arrivano sempre, non lo so perché, ma ad esempio se uno fa il calciatore, prende milioni di euro, stanno zitti, magari è là che fa il tifo, ah, è grande, sono milioni di euro. Poi una che ti aggiusta l'anima, dice ah, però lei lo fa per soldi, ah, prende i soldi. Ecco, questa è una cosa pessima, è una cosa pessima che ti deve servire a capire, Marco, io non è che ti aggredisco, ma devi cominciare a capire e poi non giudicare. Credo che il giudizio sia la cosa peggiore. Ad esempio, Rachele aveva giudicato suo padre, poi un giorno ha capito. Però, Rachele, la domanda che ti faccio è questa. Ma tua mamma, che credo ti sia stata vicina in tutto questo periodo, no? Certo che sì. Cosa ha pensato? A, delle cose che gli ha raccontato. B, di questa figlia che credo non capisca che cavolo è venuto fuori, questa bimba da quale ho detto kinder è venuto fuori, o con quali, come diceva mia figlia Luna, con quali pezzetti rosa è stata fatta questa bambina qui. Cosa ha detto tua madre? È giusto dire che non solo mia madre mi è stata vicina. Mia madre è stato il faro della mia vita. Mia madre è stata colei che ha fatto da madre e da padre e lo ha fatto egregiamente. E tra l'altro mia madre è stata colei che mi ha trasmesso questa visione del mondo animato. Lei, quando io ero piccola e mi svegliavo al mattino, mi ha educata a svegliarmi dicendo questa frase, buongiorno giorno. Come se la giornata che stesse iniziando fosse un essere e andasse ringraziato, andasse salutato. Io sono cresciuta con questa donna, quindi grazie infinite alla mia mamma. Ma non c'è stata solo lei, ci sono state tante figure che mi sono state vicine. Ecco, io ho avuto una famiglia con tutti i difetti e tutti i problemi di tutte le famiglie, per carità, ma molto molto unita. Ho avuto un nonno e una nonna eccezionali. Ho avuto Paolo che per me è stato veramente un padre quando ne avevo più bisogno. Quindi io ho avuto tanti angeli intorno che mi hanno protetta. E che cosa dice mamma? Mamma è anche lei un'anima incredibile, è anche lei un'anima plurimillenaria e quindi è anche lei un'anima che ha una grandissima consapevolezza. E se si è accorta chiaramente da piccola di queste mie caratteristiche, però non mi ha aiutata a coltivarle. Mi ha sempre lasciata molto libera quindi di fare le mie esperienze. Non mi ha, come sento raccontare da altri, spinta in un percorso spirituale. Assolutamente no. Anzi, io dovevo fare i compiti, ero la studentessa modella, modello, scusatemi, diplomata con Centor Lodi al liceo classico, ho iniziato un percorso universitario di osteopatia, quindi io ho fatto proprio la ragazza normale. Però in sottofondo sia per me che per mia madre nelle nostre vite c'è sempre stata questa finestra aperta. Questa finestra aperta alla percezione dell'anima. Che in particolare mamma, secondo me, non percepisce tanto con i sensi, ma con il cuore. La caratteristica di mia madre è che ha un cuore talmente grande che potrebbe comprendere l'universo intero. Quindi in questo grande cuore, quando io le ho raccontato le mie esperienze, ha avuto grandi orecchie per ascoltare. Non è stato facile, Red, te lo dico molto onestamente, lo dico a tutti, è stato molto difficile. Soprattutto perché io ad un certo punto sono stata incaricata da mio papà, di una missione. Quindi ho lasciato letteralmente tutta la mia vita di normale studentessa per seguire questo incarico. E oggi ne sono felice. Ok, bambina. Senti, sicuramente ci vedremo ancora. Ok? Con potere. Magari un giorno viene anche in studio, così c'è più cosa. E vi ricordo il sito, qual è pure il sito? Rachele Cheyenne Tonelli, giusto? Per tutto così. Stranne Instagram che è Rachele trattino basso Cheyenne. Ok, i Cheyenne, i Cheyenne erano quelli di Tex Willer, mi piacevano molto gli Cheyenne. Poi sai, mi sono occupato, mi sono occupato un po' di giorni fa di un'altra puntata dei nativi americani con Enzo Braschi, ho mostrato delle immagini che ho fatto alla Danza del Sole in Sud Dakota. Ma Rachele, cosa sta succedendo? Vinceremo? Abbiamo già vinto. Abbiamo già vinto perché si parlava prima di libero arbitrio. E il libero arbitrio è un tema molto delicato. Io vi espongo il mio punto di vista umilmente, quindi non dico che sia così. Nessuno ha la verità dal mio punto di vista. Quello che io ho capito sul libero arbitrio. Ho capito che, come diceva anche Red, lo condivido, il nostro libero arbitrio non è fare quello che vogliamo nella vita, perché prima di nascere per l'appunto noi abbiamo programmato tutte le grandi porte da attraversare che ci porteranno ad essere chi abbiamo stabilito di diventare in questa vita, prima di poter lasciare questa vita. Quindi il libero arbitrio in realtà non è fare tutto quello che voglio, ma è scegliere di poter sbagliare, quindi scegliere di non adempiere al progetto che mi sono prefissato come anima prima di incarnarmi e scegliere fino a che punto adempiere, farlo al 10, al 20, al 30, al 50 per cento. Questo è il libero arbitrio, ma non è fare tutto ciò che vogliamo. Se noi siamo qui questa sera in, leggo, 3470 anime e stiamo parlando di questo e io sto dicendo in diretta, pubblicamente che ho visto l'anima di mio padre, che esiste l'anima in tutte le cose, cioè vi rendete conto la grandezza di quello che stiamo facendo. Noi abbiamo già vinto, non si può più tornare indietro, non si può. Sono di più, quelli che tu vedi sono una parte, sono ancora di più. Ok Cheyenne, mi piace chiamarti Cheyenne, non lo so perché, però mi piace di più. Hai ragione tu, Rachele è un nome biblico e Cheyenne è un nome nativo americano, quindi sei una bella mescola e continua così, stai facendo le cose giuste e stai aiutando tante persone. Ciao Cheyenne, ci vediamo, ok? Ciao a tutti. Ciao.